Allora, voglio darvi un consiglio per le vostre vacanze. Le vostre vacanze non dovete andarle a fare in luoghi ameni, al mare, no, dovete venire a Milano, ma non nei luoghi conosciuti di Milano, quelli della Movida, di Brera, dovete venire a fare le vacanze in periferia a Milano, qui in Piazza Udine, che è un luogo molto bello, qui siamo ai giardini Marisa Belisario, quindi potete venire qui dopo pranzo a stendervi sotto un giardino a prendere l'ombra necessario, ma non c'è, non ci sono solo i giardini Marisa Belisario, ci sono tante cose, c'è il benzinaio, il benzinaio dove si può venire a fare quattro chiacchiere, mettere un po' di benzina, far controllare la pressione delle gomme. Posso fare una foto? C'è, sì, saluto intanto una signora. Buongiorno. Signora, vuole dire perché venire a fare le vacanze qui in Piazza Udine? Io abito qua. E abito in Piazza Udine, consiglierebbe di venire a fare le vacanze qui? Dica una cosa bella che c'è in Piazza Udine. Una cosa bella che c'è in Piazza Udine? Sì. Non lo so. Una. La tranquillità diciamo in questa parte. La tranquillità, invece di andare nella tranquillità del mare, della montagna, venite nella tranquillità di Piazza Udine, che è tutta un'altra cosa. C'è il benzinaio, facciamo vedere, grazie signora, c'è la rotonda con tanta lavanda, quindi se fate la lavatrice poi potete venire a stendere i panni sui rami di lavanda che diventa automaticamente profumata senza spendere i soldi al supermercato per comprare il profumo. Ci sono anche tanti bar dove potete venire a bere alcolici, fare aperitivi uno dopo l'altro e quindi passare così la vostra serata facendo aperitivi. Quindi, ricapitolando, non andate a spendere soldi al mare, non spendete soldi in montagna, please come to Piazza Udine, perché ci sono i giardini Belisario con l'ombra, ci sono anche dei giochi, poi ci sono i bar per avere molti aperitivi, c'è il benzinaio e c'è anche la rotonda con la lavanda e poi le macchine, perché quelle è sempre bello vedere perché ti danno l'idea di vita. Altre cose, i negozi, ecco c'è anche qualche supermercato economico, perché in periferia i supermercati sono quelli minori economici, quindi potete comprare anche dei prodotti da discount che costano meno. Please come to Piazza Udine.